Ciao a tutti, vediamo in questo video 6 errori drammatici che le donne fanno con gli uomini. In questo video voglio presentarti 6 errori drammatici che le donne fanno spesso con gli uomini. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere di farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. E adesso veniamo ai 6 errori drammatici che le donne fanno con gli uomini e che vanno a compromettere, diciamo, la relazione sentimentale effettiva, cioè possono far sì che alcune relazioni vadano male quando sarebbero potute andare bene e altro. Allora, il primo errore è portarsi i fantasmi del passato nel presente. Ecco, questo è un grave errore che spesso fanno le donne. È veramente un grave errore perché se ti porti i fantasmi del passato nel tempo presente non hai più la possibilità di controllare, diciamo, la relazione per così com'è, cioè agisci su una base di fantasmi del passato. Ad esempio, se da bambino o da bambina, bambini in questo caso, o nella fase adolescenziale, insomma, hai sofferto tanto per tradimento, questo tradimento è diventato un imprinting, cosa succederà? Che farai fallire magari una relazione che poteva andare bene con l'uomo giusto, che era magari fedele, ma tu, come dire, sospettando il tradimento, sospettando questo, sospettando quello, sei diventata paranoica e gli hai fatto tante palle che questo se n'è andato via. Magari una relazione che poteva essere la relazione giusta. Non dovuta al fatto che lui oggettivamente, in qualche modo, faceva qualche cosa, ma tutte le tue paranoie. Altra situazione, l'inversa, è quella in cui il tradimento è talmente forte, ma talmente forte, che questo bisogno di essere tradito è talmente forte, che a livello logico ti vai a cercare uno fedele, ma poi ti innamorerai di tutti quelli che ti riempiranno di corna. Questo vuol dire portarsi i fantasmi del passato nel presente. Il secondo, possiamo dire, il secondo grave errore che le donne fanno con gli uomini è non controllare le proprie emozioni. Le donne sono degli esseri emozionali, quindi essere emozionali cosa significa? Significa che, diciamo, sono emotive, le donne sono emotive, e questa emotività, diciamo, spesso fa sì che prenda il sopravvento sul... spesso succede che l'emotività prende il sopravvento sulla... sulla ragione, sulla logica, e quindi si agisce in modo compulsivo. Si fanno delle cose, non gestendo le emozioni, non controllando le emozioni, che vanno di fatto a rovinare anche qua una relazione proprio per un modus operandi compulsivo, ossessivo, che non fa assolutamente bene, non dà assolutamente nessun... come possiamo dire, nessun vantaggio nella relazione. Quindi non controllare le emozioni, avere crisi isteriche, diventare ossessiva, compulsiva, insomma, avere tutto un modus di fare, non ti farà certamente trovare la persona giusta. Le emozioni sono l'energia, ma la guida ce la deve mettere la parte logico-razionale. Altro errore che fanno le donne, da un punto di vista sentimentale effettivo, che fanno le donne con gli uomini, è non sapere dire di no quando è necessario. La captazio benevolenza, cioè il fatto di essere fortemente, diciamo, benevolenti o comunque adattarsi, sperando che questo, che dicendo sempre di sì, si ottengano dei risultati, è un altro grave errore, perché non dimostri personalità, non dimostri la capacità di essere una donna di valore, ma ti dimostri come una donna di scarso valore. Allo stesso modo, il quarto errore è quello di gratificare eccessivamente. La gratificazione cosa vuol dire? Vuol dire soddisfare le esigenze logiche. Le esigenze logiche. Se le esigenze logiche vengono soddisfatte in modo puntuale, preciso, senza, come dire, creare della tensione, creare della tensione emozionale, beh, questo non li farà innamorare, piano piano li allontanerà. Ed è quello che succede molto spesso quando magari una donna è coinvolta, che tende a una gratificazione eccessiva. Il quinto punto è legato, diciamo, a esprimere quelli che sono i tuoi problemi, parlare dei tuoi problemi. Esprimere quelli che sono i tuoi problemi è un altro, diciamo, errore da questo punto di vista, perché se tu lo metti in fuga, inneschi i meccanismi di difesa, se tu inizi a dire, eh, io però non ho lavoro, eh, io però ho qua ho questo, io però ho qua ho quello, questo è un qualcosa che, da un certo punto di vista, ti blocca fondamentalmente. È una cosa abbastanza, diciamo, blocca il maschio, no? Perché mai dovrebbe mettersi in una situazione con una persona problematica. Quindi questo è un altro fatto da tenere presente. È un altro grave errore. Molte donne iniziano a riversare tutti i loro problemi, con i figli, con i mariti, gli ex mariti, ex compagni, ex qua, ex là, vanno a tirare fuori tutta una sera una plettora enorme di problemi che blocca di fatto gli uomini. E li blocca perché non si sentono, diciamo, minimamente, come dire, coinvolti. Perché la parte logica del maschio, in questo caso, è quella che tira su, giustamente, i meccanismi di difesa. E poi il sesto grave errore è cercare la simbiosi relazionale, cioè rinunciare a quelli che sono le tue passioni, a quelli che sono i tuoi desideri. E questo è un altro grave errore. Perché ti renderà, ti darà per scontata e non cercherà in nessun modo, non si sentirà in nessun modo attratto da te. Purtroppo questi sei errori vanno a frantumare spesso le relazioni. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento. Cioè, potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti.